Sono iniziati ad Aquilea i lavori che finalmente doteranno il paese di un nuovo parcheggio pubblico. L'opera è stata oggetto di variante urbanistica nel mese di novembre scorso e adesso, dopo l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Edilgemini Costruzioni, il cantiere è potuto partire. L'intervento per il parcheggio viene effettuato a valle del paese, in un terreno situato lungo la strada comunale, leggermente al di sopra della quota della sede stradale. Per questo, i primi lavori a partire sono quelli necessari allo sbancamento del terreno, proprio per portare il parcheggio a livello della strada, dopodiché sarà realizzato un muretto di perimetro dell'area che verrà pavimentata con autobloccanti grigliati, per consentire una maggiore permeabilità del terreno. Sarà poi predisposta l'illuminazione pubblica e verranno regimate le acque. Contemporaneamente a questo intervento parte anche l'altro a monte del paese di Aquilea, dove sarà realizzata un'area da destinare in futuro all'attesa sicura di protezione civile a servizio dell'abitato. I due interventi hanno un costo complessivo di 100.000 euro e i lavori, se non ci saranno imprevisti in corso d'opera, dovrebbero terminare all'inizio dell'estate.